Vince col minimo scarto e salva il Natale e la panchina di la terza. Non senza patemi, il Casarano prevale sul Bitonto e avvicina il secondo posto. Uniconeo, le tante occasioni sciupate, con carotenuto prodigioso nel recupero, annegale il pari a Chacon. Manca da due mesi la vittoria in casa e il Bitonto. Modesto e Santorubo, sanno che la salvezza, passa dal pubblico amico e provano il colpo col Casarano. Cambia una pedina in attacco, resta Palazzo, al suo fianco, prima da titolare per pentola, a discapito di Figliolia, fuori tedesco al pari di Acampora e dello squalificato Gomes. Con una panchina traballante, non ha più margine d'errore la terza, dopo l'inattiso stop con Manfredonia. Gambino è l'unico superstite nel trio a supporto di Perez. Corvino e Gionai prevalgono infatti su Citro e Falcone. C'è Celli in mediana con Cerutti. Come prevedibile, il palino del gioco è da pannaggio del Casarano. Al quattordicesimo, Celli raccoglie sul secondo palo, batte di Ame, ma non la copertura salva il risultato del difensore. Non fortunato il Bitonto, perde a aprire per infortunio, al suo posto è Spinar, un esterno per un difensore. Neanche il tempo di riorganizzarsi, che il Casarano è pronto a colpire al fianco. Nero Verdi, pasticcione in uscita, palla recapitata a Perez, Diame in qualche modo si salva. Sul sesto corner a favore, ecco il gol. Questa volta l'inserimento di Celli è vincente. Palla in buca d'angolo e 0-1 alla mezz'ora. Continua a collezionare corne il Casarano. La chance per il raddoppio arriva su punizione, ma la parabola di Jonai è fin troppo elaborata. Dura invece dieci minuti scarsi la partita di Spinar. Lo spagnolo ex Manduria non ce la fa. Problemi a non finire per Modesto. Cambio obbligato con De Michele. In avvio di ripresa, Modesto richiama un anonimo ventola per Figliolia. L'attaccante si fa subito nuotare per un tiro ciccato che diventa assist per Muscatiello. Caro tenuto, attento. Con il portiere 2003, quest'oggi preferito al parietà Pucci. La terza lancia Citro e Falcone e i due danno subito una marcia in più all'attacco salentino. Dialogo nello stretto, ma Diame è reattivo sul tiro ravvicinato dell'ex Fasano. Duello che si ripropone 30 secondi più tardi, ma è il numero uno Nero Verde in giornata di Grazia. Modesto prova a riprenderla dalla panchina con Sciacone e Mazzarano. Clementi mette alto di poco. Palazzo si libera di Celli. Ma sbaglia così davanti a Caro tenuto. Non a caso, l'attacco del Bitonto è il più sterile del campionato. Hanno una voglia matta di pervenire al pari padroni di casa. Botta di Sciacone in pieno recupero, Caro tenuto bola, ripagando la fiducia di la terza e consegnando di fatti tre punti ai suoi. Il Casarano chiude comunque con una vittoria un 2023 troppo a singhiozzo. Lo stesso dicasi per il Bitonto. D'applausi nello scorso campionato, in tremenda difficoltà e penultimo quest'anno. Adesso la pausa. Il 7 gennaio il campionato riparte con il girone di ritorno e con Bitonto, Angri e Rotonda Casarano.